Andrea Giorgis, deputato del Partito Democratico, oggi coordinatore del gruppo di lavoro su riforme istituzionali e autonomie locali. Che cosa è emerso in questa prima mattinata di discussione? Intanto è emerso quanto sia preziosa e quanto vada valorizzata la sfera pubblica. Crescono quelle società che possono disporre di livelli istituzionali e di una pubblica amministrazione efficiente e riconosciuta dai cittadini. E poi sono emerse alcune considerazioni di fondo che bisogna tenere presente quando si tratterà di procedere all'attuazione della riforma della pubblica amministrazione o del riordino dei diversi livelli istituzionali. Innanzitutto è stato evidenziato con molta chiarezza come la differenziazione organizzativa possa contribuire a meglio garantire il principio di uguaglianza sostanziale. Può sembrare un'affermazione controintuitiva. Invece è stato dimostrato come trattare in maniera uguale situazioni diverse significhi compromettere in molte situazioni la possibilità di erogare servizi di qualità e soprattutto fare sì che ciascun cittadino possa disporre di quei servizi e di quelle condizioni materiali che sono necessari per una vita libera e dignitosa. Oltre che naturalmente fare in modo che i processi produttivi e i processi distributivi siano volti all'interesse generale. Troppa uguaglianza vuol dire alle volte delle forme di ingiustizia? Troppa uguaglianza organizzativa. Lo stesso modello organizzativo ripetuto su territori e realtà diverse può determinare ingiustizia e può produrre delle diseconomie. Perché durante la mattinata è emerso con evidenza come ci sia un legame strettissimo tra qualità della pubblica amministrazione, riconoscibilità e legittimità dei livelli istituzionali e crescita economica. Non sono indifferenti i modelli organizzativi rispetto alla capacità di un tessuto sociale di essere anche economicamente in grado di crescere e di svilupparsi. E quindi abbiamo cercato di discutere e di mettere a punto quelli che sono alcuni profili di carattere organizzativo e alcuni aspetti che debbono essere maggiormente valorizzati proprio per fare in modo che i cittadini possano ricevere dalla pubblica amministrazione e dai diversi livelli istituzionali servizi di qualità. Ma soprattutto perché il nostro tessuto produttivo e il nostro tessuto economico possono ricevere dai livelli istituzionali e dall'amministrazione pubblica un impulso e un contesto favorevole alla crescita economica. Questo è forse l'aspetto più interessante, noto agli studiosi ma non sempre tenuto nella dovuta considerazione quando si è proceduto a delineare alcune riforme. E per esempio è emerso anche come sia necessario dare coerenza tra il riordino dei livelli istituzionali che va dall'abolizione della provincia all'unificazione dei comuni e la disciplina del pubblico impiego e la valorizzazione del personale pubblico. Noi abbiamo bisogno di avere una pubblica amministrazione non solo efficiente ma una pubblica amministrazione composta da persone che sono stimate, riconosciute, valorizzate. Quindi attenzione, hanno detto molti di coloro che sono intervenuti, a svalutare il ruolo e il prestigio della sfera pubblica. Attenzione a non dare quell'importanza e quel riconoscimento che invece sono necessari a coloro che ricoprono incarichi pubblici. E poi è emerso a questo proposito anche il tema degli amministratori locali. C'è una questione che bisogna rapidamente tornare ad affrontare. Livelli istituzionali locali che godano di legittimazione democratica hanno un senso se possono disporre anche di una qualche autonomia finanziaria. Ribaltando la formula americana sul rapporto tra tassazione e diritto di voto, noi dovremmo oggi dire che forse non ci deve essere rappresentazione without taxation. Paga non dovrebbe essere rappresentato? No, ma a parte questo, parte il tema dell'evasione fiscale, quindi chi non paga le tasse dovrebbe perdere il diritto di voto. Ma qui la formula è stata usata in maniera molto efficace per sottolineare un altro aspetto, che se si riconosce autonomia politica, cioè se si eleggono consigli comunali, se si elegge un sindaco, ma poi non si consente loro di esercitare alcuna discrezionalità politica, alcuna discrezionalità economica, forse si rischia soltanto di frustrare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di sprecare delle risorse. Per cui se non si pone rapidamente rimedio al rischio di una finanza solo più di trasferimento e quindi se non si mettono gli enti locali nella possibilità di avere risorse proprie e quindi di fare programmazione, dovremmo forse persino interrogarci se ha ancora senso garantire autonomia politica e quindi legittimazione democratica. Da questo punto di vista l'abolizione indiscriminata dell'imposta sulla prima casa ci deve portare a riconsiderare il sistema dell'autonomia finanziaria degli enti locali, perché lo hanno detto quasi tutti coloro che sono intervenuti, se gli enti locali avranno solo più una finanza di trasferimento non potranno più programmare e se non potranno più programmare c'è da chiedersi se ha ancora senso garantire loro autonomia politica e autonomia amministrativa, perché se poi questa autonomia non può essere esercitata in nessun modo perché non dispongono di risorse ma devono solo erogare servizi che sono per legge dovuti, c'è qualcosa che non funziona. Quindi da questo punto di vista il rapporto tra livello istituzionale, formula organizzativa, modalità di legittimazione e capacità economica e quindi il rapporto con l'economia è molto stretto.